Un saluto a tutti gli amici Oggi voglio parlarvi di Windows e del PC che tutti usiamo e mi riferisco in modo particolare a tutte le persone che usano normalmente il computer ma anche alle medie e piccole aziende Come è noto, Windows, pure se non siamo cattivi con lui che carichiamo, scarichiamo programmi, navighiamo senza protezioni questo piano piano si degrada quindi diciamo che questo problema esiste e molte persone l'avranno notato cioè non c'è più lo sprint iniziale come appena formattato Bene, quindi io più volte ho detto che il mio computer è lentissimo perché ci faccio delle prove, carico, scarico, programmi e così via allora il problema è quando poi alla fine si arriva che il computer non è quasi più usabile perché si spegne comincia a darci dei grossi problemi le persone sono tentate a riformattarlo giustamente cioè è solo formato chi lo fa da solo, se lo fa da solo chi non lo fa non sa farlo lo deve portare all'assistenza e li soba toste che poi questi che cosa fanno non credo che ti mettono una copia originale di Windows certificata e quindi uno sta tranquillo insomma io penso che mettono una copia così allora io ho sperimentato tanti pulitori così come li chiamano pulisci qua, pulisci di là usa questo, usa quell'altro è bene, ne ho provati tanti il computer è andato sempre peggio e poi un'altra considerazione che sono usciti antivirus da tutti i colori e non funzionano purtroppo non prendete nemmeno in considerazione quelli free per carità allora, adesso oggi vi parlerò di questo software che ha Advanced System Repair Pro questo è un software che io ho scaricato perché il computer proprio faceva dei crash e quindi ero tentato di riformattarlo ho scaricato questo software e ho fatto una scansione in questo modo è semplice questo lo installate e avete questa e vedete questa configurazione dunque, questo è professionale io ho acquistato la licenza per sbrigarmi e pulisce le infezioni sistema il registro farla di sicurezza ottimizza l'avvio deframenta il disco insomma per farla breve questo software è ottimo è ottimo il vostro computer diventerà nuovo credetici dovete crederci allora io qui ho acquistato una licenza che è valida per sei mesi siccome c'è un paio di computer adesso qui l'ho installato su quello che è diciamo il computer di assalto che sta sempre collegato perché naturalmente ci lavoro adesso io mi rivolgo sia a coloro che ci hanno come ho già detto prima che magari ci hanno un personal computer a casa e con questo software voi evitate di pagare tanti soldi perché questo mi pare che se non trovate qualcosa in giro è venuto sui 25 passa euro ecco dunque io l'ho passato ho detto boh sarà il solito invece non è stato così il computer è diventato come nuovo ma il mio computer ha una marea di software pesanti non è che un computer pesante è un computer che che ha un hardware spaventoso un computer è un HP che ha pure 10 anni è un portatile in pratica e quindi si sa che poi i portatili sono un po' limitati e quindi insomma è meglio di quando era nuovo io non è che faccio pubblicità a questo software perché a me non mi paga nessuno quindi io queste notizie le trasferisco a voi che avete un personal computer e può essere utile per le medie e piccole industrie cioè quando uno ha una marea di dati dentro e beh lì può andare storto qualcosa e li perdi con questo sistema io non ho perso nulla adesso qui fa tutto da solo voi non dovete fare niente lo scannerizzate eh poi acquistate la licenza vedete voi come fare però vi garantisco il computer tornerà come nuovo poi questo si mette in esecuzione automatica e qui manutenzione del sistema in tempo reale io l'ho messo off perché non è che tutti i giorni e so fare la manutenzione del sistema ecco allora vi voglio far vedere un esempio adesso come è diventato questo computer era una lumaca l'ho detto più volte vi garantisco che il computer è sempre lo stesso ecco per esempio io apro questo qui è istantaneo quest'altro è istantaneo questa velocità non l'ha mai avuta diciamo ma questi sono block notice così non sono software pesanti però questo si ecco ragazzi amici qui i risultati si vedono quindi per concludere l'argomento voi a questo punto possiamo dire che non è più necessario riformattare il computer quelle manovre ce le possiamo dimenticare voglio aggiungere che io ho sperimentato anche una marea di antivirus non c'è stato niente da fare è passato tutto questo software qui ha trovato questo software ha trovato di tutto di tutto trojan questo quell'altro tutte le cose malevoli per un computer bene mi sono scaricato calpeschi e che ti garantisce anche la protezione di linea e gli acquisti ce l'ho in prova per un mese e poi dopo l'acquisterò e quindi dopo tutte le prove da me fatte vi garantisco questo software qui e calpeschi vabbè ci siamo capiti perché è famoso c'è le icone sui caschi dei corritori di formula 1 quindi lo conoscono tutti e quindi amici con l'anno nuovo mettetevi diciamo un po' al sicuro perché anche anche gli hacker affileranno le loro armi quindi vediamo un po' di difenderci un po' naturalmente io vi ringrazio per l'ascolto e ci vediamo al prossimo video